URC, rally in lutto, è morto a 88 anni, Amilcare Ballestrieri. Ehi ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio del nostro canale dedicato al mondo dei motori e dello sport. Oggi purtroppo ci troviamo qui con una notizia triste e commovente che ha colpito il mondo del rally. A 88 anni ci ha lasciato uno dei grandi pionieri di questa disciplina, Amilcare Ballestrieri. Sanremese classe 1935, Amilcare ha lasciato un segno indelebile nel motorsport italiano. La sua carriera ha attraversato diverse ere, dall'avventura sulle due ruote negli anni 60 fino al suo trionfo nelle quattro ruote nel decennio successivo. Amilcare ha dimostrato il suo talento vincendo per ben tre anni consecutivi il campionato italiano di corse in montagna nel 62, 63 e 64. E non è finita qui, nel 64 si è laureato anche campione italiano juniores nella classe 175. Un vero talento su due ruote. Tuttavia, gli anni 70 hanno visto il nostro pilota preferito fare un cambio di marcia spettacolare. Ha scelto di dedicarsi completamente ai rally, un mondo che lo avrebbe premiato con la gloria. E infatti, in pochissimo tempo, ha centrato la vittoria più prestigiosa e amata, trionfando nel rally Sanremo del 1972, la gara di casa. Un risultato incredibile, soprattutto perché quell'anno l'evento non faceva parte della corsa al titolo mondiale piloti, ma lo era per il campionato internazionale costruttori. A Milcare è stato il primo Sanremese a raggiungere un traguardo così importante, e ad affiancarlo in questa avventura un grande nome dei copiloti, Arnaldo Bernacchini, padre di Giovanni. Una collaborazione che ha scritto la storia. Nel 1973, Ballestrieri ha continuato a stupirci, laureandosi campione italiano rally insieme al concittadino Silvio Maiga, che successivamente avrebbe fatto coppia con Sandro Munari dal 1976. Guidavano una potente lancia fulvia, dimostrando ancora una volta il talento e la dedizione di questo grande pilota. A Milcare ha portato la sua passione per i rally anche oltre i confini nazionali. Dal 1973 al 1977 ha partecipato a ben 10 eventi del mondiale rally, ottenendo risultati di grande spessore. Il punto più alto è stato un quinto posto assoluto al rally d'Italia nel 1976 al volante di una potente Opel Cadet GTE. E se pensate che le vetture utilizzate da Milcare fossero poche, vi sbagliate di grosso. Ha corso nel mondiale con ben quattro vetture diverse, dimostrando la sua versatilità e capacità di adattarsi alle diverse sfide che il rally proponeva. Dai classici come la Lancia Fulvia e la Lancia Stratos HF, passando per la Lancia Beta Coupé e l'Alfa Romeo Alfetta GT fino alla Opel Cadet GTE, Ballestrieri è sempre stato un avversario temibile e stimato. Ma la sua carriera non si è limitata solo ai rally. A Milcare ha saputo anche distinguersi in altre competizioni. Nel 1974 ha vinto la prestigiosa Targa Florio, la 58esima edizione al volante di una Lancia Stratos del team Lancia Marlboro, battendo avversari di altissimo livello come la Porsche 911 Carrera RSR e la Bartosella PA2. Amilcare Ballestrieri ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di motori, ma il suo ricordo e il suo contributo al mondo dei rally saranno per sempre incancellabili. Che ne dite ragazzi? Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo grande pilota e se anche voi conserverete un ricordo speciale di lui. E se siete nuovi sul canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!